Ecco un missile a bomba d'acqua, propulsione ad acqua, niente di più semplice, un tubo dal compressore che abbiamo fatto delle modifiche, tubo dell'acqua ad angolo con un chiavistello così l'acqua non va via, andiamo a riempire l'acqua, la posizioniamo qui sopra e la facciamo partire come un razzo, a dopo. Allora, la mettiamo un terzo d'acqua più o meno e la andiamo a spingere qui sopra, quindi lo nastriamo un pochetto per dargli un po' di pressione, a dopo. Via. Bentornati, siamo quasi pronti eh, adesso collego il tubo molto artigianale qui alla base di lancio di salietto alias Kepkanaverau. Apriamo l'ubinetto e andiamo alla propulsione nucleare ad acqua, via! Via! Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go!